Russini, suo cross col destro sul secondo palo, la rete! Il gol di Sipos sull'assist di Simone Russini e risponde subito presente Leon Sipos, dicevamo giocatore che non segnava da diverse partite al primo pallone giocato, la rete di Leon Sipos. Eccisione verso Sala, palla che è uscita debole dalla sua testa ma attenzione, ancora l'errore di Sala, allora può ripartire Corsi all'interno dell'area, ancora Corsi col destro! Sul fondo chiede scusa a Sala, occasioni simili dal punto di vista tattico e anche tecnico. Qui lancio di Provenzano verso Greco che prende posizione, all'indietro Rosai ha col destro, palla sul fondo. Tentativo di dribbling di Russini che poi ne salta un altro, calcio di punizione, il secondo giallo per Corsi che viene espulso, il fallo di Corsi con Russini più 4 proprio sulla Vibonese. Grillo, il dribbling di Grillo che entra in area, ancora Grillo all'interno, c'era Zibert anticipato ma ancora Vibonese, altro cross, sempre Zibert, arriva prima Lorenzini, poi il destro sul fondo. Tambureggiante, tocco sbagliato da parte di Russini, allora può ripartire Maros, rimasto a terra Swagger, e arriva il cartellino rosso, cartellino rosso per Sipos. L'errore dipinto, esce in copertura Lorenzini che però scivola, allora ancora Bellini all'interno dell'area col sinistro, il tentativo di Bellini, poi la ragione, la ragione, la parata di Sala che se la ritrova lì. Adesso l'inerzia del match, in questo momento è basata sulla stasi di un Catania che in vantaggio prova a colpire ripartenza, adesso con Russini, ancora Russini col destro, la tiene lì Mengoni. Cataldi e poi Provenzano, partito al suo fianco Zanchi, adesso servito, il dribbling di Zanchi che va fino in fondo, poi il cross arretrato, palla per Biondi, la rete di Kevin Biondi, un gol splendido da parte di Biondi col mancino a pre... Isco invece a zona, pronto golfo, il destro di golfo, dovrebbe essere lui a incaricarsi la battuta, arriva il cross all'interno dell'area, Maros ci prova, arriva la rete, la rete della Vibonese, proprio Maros, sembra essere stato lui a toccare per ultimo il... Albertini, palla gestita da Isco e arriva adesso... Il...